Parlaci un po' di questo girone d'andata. Vabbè, abbiamo iniziato male, poi abbiamo avuto un periodo dove siamo andati un po' in crisi e poi alla fine siamo riusciti a fare quelle vittorie che ci hanno permesso di ritornare un po' lì nel gruppo davanti. Potevamo far meglio, ma alla fine si poteva anche finire peggio, perché c'è stato un periodo dove eravamo sotto la linea e siamo riusciti per fortuna a tornare sopra e adesso siamo in una buona posizione. Cambiamo un po' discorso, come hai passato le vacanze natalizie? Le vacanze le ho passate con la famiglia a casa e diciamo sì, come da Natale mi piace stare a casa con la famiglia e poi vabbè, un po' con gli amici. Sono ripresi da una settimana gli allenamenti, come ti senti? All'inizio è sempre dura, perché abbiamo avuto un mese di vacanze, quindi ci vuole un po' rimettersi in sesto, però adesso siamo a seconda settimana e si inizia a stare già meglio. Questo fisicamente, psicologicamente invece? No, psicologicamente va bene, il problema è sempre più fisico che mentale. Il 19 si ritorna in campo qui a Cornaredo, quali sono le tue aspettative? Vabbè, ormai sarà la prima partita e dobbiamo iniziare bene, quindi dobbiamo fare tre punti, perché è importante per rimanere attaccati al gruppo davanti. Un saluto a tutti i tifosi bianconeri e spero di vedervi alla prima di campionato con lo Stany Onet. Un saluto a tutti i tifosi bianconeri e spero di vedervi alla prossima.